Noi dell'Italia e Valori abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo contribuito con il comitato referendario a raccogliere 1.200.000 firme per cambiare questa legge elettorale, perché riteniamo che sia una legge elettorale che manda in Parlamento persone che si vendono e si comprano come se fosse al supermercato. Invece vogliamo una legge elettorale in cui i cittadini possano scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa e che resti in un sistema bipolare di tipo maggioritario. Per questa ragione, dopo aver fatto il nostro dovere, attendiamo con fiducia e con rispetto le decisioni della Corte Costituzionale, ben sapendo che anche se dovesse decidere per il rigetto, non è altro che per una questione formale, ma il problema resta e rispetto a 1.200.000 cittadini che hanno fatto una richiesta ben precisa, maggioritario e in un sistema bipolare dove i cittadini debbono sapere prima chi è che partecipa alla coalizione, qual è il programma e qual è la squadra di governo, queste regole devono rimanere sia che la Corte ammette sia che la Corte non ammette il referendum.